Anche in questo caso abbiamo posto la problematica al Presidente del Consiglio sul quale però ovviamente ha glissato e nulla è stato detto di preciso su questo tema. Secondo noi è allarmante che i nostri dati di sicurezza interna vengano dati a un faccendiere anche se vicino al Presidente del Consiglio attualmente.